Che è Franchino, lui è stato, se io sono qua e se tutti i vocalist, intesi vocalist come poi vi spiegherò sono, hanno fatto di questo il proprio mestiere grazie a chi l'ha fatto per primo che è stato lui, è stato lui che per gioco prendeva, era un cliente della discoteca si è vero, io l'ho conosciuto Franco, quando era cliente che pagava per entrare all'imperiale, pagava all'imperiale, io me lo ricordo Franco si vedeva che era un personaggio, arrivava lui, arrivava Franco Quando hai capito proprio che ce l'avevi fatta? C'è stato un momento in particolare in cui hai detto quella volta che non t'hanno arrestato? Quando sono entrato a far parte dell'insonnia, i duple e l'imperiale erano locali diciamo di nicchia ok? L'imperiale in primis perché era una roba particolare, mezzanotte, mezzogiorno, tutti i sabati c'era una parecchia gente... Poi oggi una cosa del genere... Cioè te stavi lì 12 ore di fila? 12 ore, a volte anche 18 L'insonnia ha reso mainstream quello che ti dicevo che prima era di nicchia è lì che lui ha avuto quella percezione Mi è già stata fatta anni fa questa domanda quando si è accorto che quando sono entrato a far parte dell'insonnia del club in sogna, della discoteca in sogna lì ho capito che era il mio DJ, era il mio lavoro era un lavoro che potevo continuare a fare, il lavoro Tra l'altro grande fortuna quando fai della tua passione il tuo lavoro, hai vinto nella vita quindi questo è fuori discussione Sì, sì, assolutamente E sì, poi c'era l'altra domanda molto interessante che magari siamo persi perché... Ah, le rifaccio, le rifaccio Sì, esatto Come Luca è uno degli ultimi vocalisti rimasti in Italia come nasce la figura dei vocalisti in Italia perché oggi ci sono solo due vocalisti, no? Quindi spiegare questa roba Allora, l'aneddoto sulla nascita l'ha raccontato Riki il suo quindi evitiamo il mio, se no ci si dilunga Però anche te hai detto che diciamo era un po' per le ragazze, no? Sì, cioè, vado veloce No, ma non andare, cioè nel senso... Nel senso, io mi avvicino al mondo della notte mi avvicino all'insonnia perché ho circa dieci anni meno di lui quindi io mi affaccio a quel mondo quando già l'insonnia esisteva Tu andavi a sentire lui? Io andavo a sentire anche lui era già uno dei miei preferiti all'epoca resto infatuato un po' come lui da questa figura quasi come se in chiesa ascolti il vescovo cioè questa centralità della console come in un altare, in una chiesa cioè c'era qualcosa di trascendentale in quello che succedeva in quella console nelle console il DJ era in quel momento un... come nelle tribù africane il santone, no? Il guru Il guru Il guru Questo lo percepivi molto quindi ebbi due forti attrazioni una più bella da dire e una più pragmatica quella bella era questa attrazione verso questa centralità e la musica perché di base, come dicevo, io sono sempre stato attratto da quelle emozioni dall'altra, meramente opportunistica vedevo che chi era lì era figo era figo perché tutti lo salutavano era figo perché tutte le ragazze erano lì intorno quando hai 17, 18 anni, 16 la priorità è il testosterone è chiaro sempre qualsiasi strada ti porta verso quella cosa che non si dice è da fare immediatamente siccome non ho potuto fare mai della mia bellezza il mio cavallo di battaglia cioè sono normale non sono all'hand alone dovevo trovare, no? è un problem solving trovare una soluzione per raggiungere l'obiettivo adolescenziale che è la ragazza le ragazze quindi avevo questa doppia vantaggio nell'avvicinarmi a quel punto la passione che mi stava nascendo verso quelle sonorità e cazzo dire oh, ho tre, quattro fighe che vogliono uscire con me anch'io vado veloce anch'io iniziai a fare le luci il sabato sera dell'insonnia perché le luci apro e chiudo parentesi è un'ottima scuola sulla ritmica sui quattro quarti della musica cioè io se oggi faccio il vocalist e diciamo che riesco a entrare nei momenti giusti è anche grazie a quell'istrobo che ho messo negli anni 90 perché passavi sette ore a serata a seguire la ritmica a capire la pausa a capire il momento emozionale e questo dentro di me c'è e è quello che forse come lui quando fa il DJ io quando faccio il vocalist luci il sabato sera che il sabato sera era il Real Madrid era come per un giocatore di calcio andare a giocare nel Real Madrid esatto e io facevo le luci non era ancora artista mentre la domenica pomeriggio dell'insonnia non vi dico come e perché ma anch'io iniziai per caso quando il vocalist era malato mi dettero il microfono a me per dire buonasera iniziai a fare il vocalist la domenica pomeriggio dell'insonnia target più basso target più basso comunque 3.000 persone a quell'epoca quando poi il sabato sera 5.000 al sabato 3.000 al sabato esatto quando si liberò il posto il sabato sera fui passato al sabato sera da vocalist che ripeto è come quando quello che è entrato ora nel Milan a 15 anni a 16 anni a Caldara Caldara te entri all'insonnia era oggi non ci si rende conto ma era come entrare nel Real Madrid cioè te se eri una volta scritto sul flyer cartaceo all'epoca te in automatico venivi chiamato da Torino a Palermo esatto quello che dicevo io quando sono entrato in lavoro a far parte dell'insonnia questo è stato l'inizio il vocalist il vocalist bisogna dare onore a un collega che oggi qui non è con noi che salutiamo che salutiamo ciao Franco e magari prossimamente lo avrete che è Franchino lui è stato se io sono qua e se tutti i vocalist intesi vocalist come poi vi spiegherò sono hanno fatto di questo il proprio mestiere grazie a chi l'ha fatto per primo che è stato lui è stato lui che per gioco prendeva era un cliente della discoteca si è vero io ho conosciuto Franco quando era cliente che pagava per entrare eh ci raccontate questa cosa come l'ha conosciuto pagava l'imperialismo io me lo ricordo Franco era si vedeva che era un personaggio arrivava lui arrivava Franco perché perché era vestito particolare cappelli lunghi lo vedevi che si notava quando passava e però pagava 50.000 lire si pagava nel 92 c'è un aneddoto bello che il proprietario dell'imperiale scrisse sopra all'entrata disse alla mosca a ragno dove c'è la lista non c'è guadagno pagavano tutti solo noi DJ e basta il resto pagavano tutti oggi è un po' il contrario esatto 50.000 lire erano soldi e per gioco prendeva era diventato un po' il personaggio della discoteca ma così il personaggio della pista a una certa ora andava da proprietario dai metti fammi parlare dai fammi parlare dai fammi parlare e che diceva tipo all'inizio cioè raccontava delle storie magia la diceva spesso raccontava delle storie o diceva qualche parola tipo ma ora di preciso o meglio le famose favole ora no 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 le favole è giusto che poi dica lui risponda lui no a questo poi ci si evolve ovviamente ma il concetto è un altro cioè nasce il vocalist come personaggio che con certe parole perché è lì che vogliamo arrivare con certe parole aumenta l'emozione che la musica ti dà mi crea una storia cioè il vocalist per come si interpreta noi non è quello che saluta il tavolo saluta la compagnia di pieve annevole o piuttosto c'è da spostare la macchina targata il vocalist o i compleanni o i compleanni e spenge la musica per soffiare le candeline il vocalist a casa nostra è una figura artistica infatti sui flyer è scritto grande uguale al DJ come special guest quando siamo ospiti in un locale perché insieme alle sue parole e la musica crea un flusso emozionale che secondo la nostra scuola la nostra teoria è maggiore di quello che può fare la musica è una performance è una performance tale quale il DJ che tanti quando mi dicono che lavoro fa il vocalist cioè io non glielo posso spiegare io ti dico sempre dico sempre vieni e ascolta perché già ascoltarmi o ascoltarlo in un ma il vocalist è ancora peggio ascoltarlo decontestualizzato dal luogo non è la stessa cosa perché per uno come me che non si prepara niente ma parla di quello che sente al momento ogni mia parola è legata a uno stato d'animo che sto provando perché ho visto te col cappello ho visto lei che è una figa o perché c'è un disco che mi ha fatto venire un brivido perché le luci in quel momento erano fatte bene come fai queste emozioni a replicarle se tu le decontestualizzi dalla situazione quindi la risposta è sempre no vado su youtube e ti ascolto sì ok per darti un'idea sì ma non c'è con l'emozione ma vieni no ma perché poi anche il compito vostro è quello di risvegliare un po' le persone cioè siamo lì a 12 ore mantenere attivi a un certo punto attraversi la fase per dirti anche quando facevano le 12 ore c'era sempre quel momento dalle 4 alle 6 la mattina che spingevano la situazione c'era un po' di nebbia strana dentro il vocalist ti dà una mano è come se ti risveglia un attimo ti riporta un attimo su ci sono varie scuole anche qui la scuola toscana non è propriamente quella per esempio Roberto Francesconi che era un vocalist molto energizzante che aveva un po' questo ruolo cioè di rendere un disco che in dei momenti poteva essere anche un po' piatto svegliarlo la nostra scuola io Franchino e Zichi quando era vocalist è un po' diversa è un po' più viaggiante cioè io non aspetto il momento in cui ti devo tirare su io faccio in modo insieme al DJ che sei sempre lì che sei sempre al massimo del tuo stato emozionale la mia domanda a fine serata quasi sempre è questa notte siamo stati bravi se per una notte vi abbiamo tolto i pensieri dalla testa se siete stati liberi di pensare egoisticamente a voi stessi e se avete provato delle emozioni basta c'è quello il segreto bisogna invitarli ma un po' loro sanno di cosa si parla noi siamo venuti tante volte vanno rinfrescati e questo mestiere è un mestiere che in realtà tecnicamente non esiste cioè esiste solo in Italia esiste solo in Italia ma anche in Italia di vocalist se lo chiedi a cento persone ti dicano c'è quello che presenta ora non mi piace a me fare nomi ma il vocalist nella tendenza è rarissimo nei locali commerciali è pieno ma per me è un altro mestiere sì sì non dico peggio meglio ma io non faccio cioè sono delle persone che mettono lì a dire non entriamo nel se no lo dico io per te se vuoi mi faccio contro una categoria intera io faccio una cosa diversa probabilmente c'è gente che mi chiede per due ore mi saluti Genova no perché ora non ci cassa il cazzo cioè si può dire perché ora sto dicendo ogni parola legata a ciò che lui sta facendo il saluto a Genova ci cassa il cazzo poi magari c'è il momento che invece mi prende un saluto ai miei di Genova Milano Roma Torino perché ci sta perché ci sta ma lo so io